Buon venerdì a tutti, eccoci qua sempre nell'ufficio dell'associazione noi che credevamo nella Banca Polare di Vicenza l'associazione di medio piccoli risparmiatori più grandi d'Italia che tutela risparmiatori dei crack bancari soprattutto Banche Venete, eccoci qua, perché? Perché ci sono delle buone notizie oggi è venerdì, ieri giovedì è stato approvato il decreto crescita sapete che nel decreto crescita c'era inserita la norma che riguardava il rimborso del 30% dei risparmiatori quindi insieme al decreto è stata approvata anche la norma che riguarda i rimborsi manca la formalità della pubblicazione in gazzetta del decreto e poi siamo ufficialmente legge dello Stato italiano e quindi il rimborso è ufficiale faremo una mega assemblea nei prossimi giorni per spiegare tempi e modi nel frattempo dopo le notizie negative che sono arrivate dal Tribunale di Vicenza dove avete letto si è astenuto il Presidente del Collegio Giudicante si è astenuto perché si è accorto di avere un'incombenza che gli impedisce appunto di essere Presidente del Collegio Giudicante strano che questa incombenza se ne sia accorto dopo 8 mesi di aver assunto la carica dopo 8 mesi che ha assunto la carica ma ulteriori commenti li lasciamo dopo aver letto le note ufficiali che lo stesso lascerà ci preme però in questi momenti in questo momento sottolineare che noi ci siamo subito mossi perché questa astensione rischia di inficiare in maniera pesante sul risultato, sull'esito e sui tempi del processo ci siamo attivati immediatamente scrivendo sia al Presidente Mattarella quale Presidente anche del CSM perché se la legge è uguale per tutti ci deve essere anche il sistema che garantisce i processi che riescano ad arrivare alla fine non basta che la legge sia uguale per tutti quindi abbiamo scritto al Presidente Mattarella dal quale ci aspettiamo ufficialmente una risposta abbiamo scritto nelle stesse ore quindi subito dopo immediatamente anche al Ministro Bonafede che immediatamente, ripeto, immediatamente si è attivato quindi onore al Ministro Bonafede si è attivato, ci ha contattati e non solo, ha scritto una nota ufficiale questi sono gli articoli del giornale che potete trovare in edicola dei giornali che potete trovare in edicola dal Gazzettino qua a Vicenza, al Giornale di Vicenza o altri dove appunto il Ministro dice che si attiverà per supervisionare la situazione non solo, vi posso dire che il Ministro mi ha contattato nelle ore immediatamente successive della nostra lettera e mi ha detto che comunque non appena prenderà provvedimenti ufficiali mi li farà avere con una nota ufficiale quindi onore al Ministro noi aspettiamo appunto i provvedimenti ufficiali questa però è una nota positiva dopo tante note negative alla faccia di chi ci attacca sempre dei nostri detrattori che stanno sempre in televisione a lamentarsi e a criticare noi abbiamo preso carta e penna come al solito nostro fatti non parole abbiamo preso carta e penna abbiamo preso coscienza della situazione abbiamo scritto al Presidente Mattarella ripeto e al Ministro si sta muovendo qualcosa di concreto quindi avanti sempre, forza le polemiche le lasciamo agli altri ad andare in televisione a strapparsi i capelli noi affrontiamo i problemi con soluzioni soluzioni sempre avanti perché questo processo deve arrivare fino in fondo e per questo invito tutti quelli che possono il 3 luglio alla prossima udienza a presentarsi tutti quelli che possono come parti civili perché sono parti civili in questo processo del crack popolare di Vicenza di presentarsi appunto in aula bunker a Mestre il 3 luglio tutti quelli che sono parti civili ripeto venite perché è importante in quell'udienza esserci per capire che cosa gli avvocati anche della difesa degli imputati Zonin, Zigliotto eccetera chiedono, decidono o succede noi non vogliamo che questo processo abbia degli ulteriori ritardi venite in aula andiamo a vedere cosa succede perché esserci in questo caso sarà importante grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille